Bentornati cari amici ascoltatori, siamo alla puntata 214 di Snap, il podcast che vi racconta la coevoluzione della professione dell'architetto e la tecnologia che usa per la progettazione. Proprio a tal riguardo continuano i resoconti della serie Roberto si avventura in ventura per raccontarvi che in effetti ci sono dei benefici nell'utilizzo di questo sistema operativo con il Mac. Parlo di Mac OS Ventura e della sua possibilità di utilizzare un risparmio energetico avanzato quando il computer non è collegato alla rete elettrica. Sotto questo punto di vista ho notato davvero dei notevoli miglioramenti della durata della batteria, tant'è che penso di non dover più utilizzare la mia utility salva computer, almeno quando sono lontano da una presa elettrica. E questa utility per chi non se la ricordasse o per chi si è appena collegato a questo podcast si chiama Turbo Boost Switcher. Questa utility cosa faceva? Disabilitava il Turbo Boost dei processori Intel e nonostante questo il computer rimaneva usabile, nonostante la frequenza dei GHz fosse nel mio caso a 1.4, quindi riportandomi quasi... ...